Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi video è un po' diverso, torniamo un pochino al format con la mia facciotta, in questo modo vado un pochino di più a braccio, ci lasciamo andare a qualche riflessione in più, anche se inevitabilmente i video fatti in questo modo sono un pochino più lunghi. Oggi vi parlo di una serie animata bellissima, andata in onda pochissimo, pensate, prima volta andata in onda nel 1983 e un'altra replica nel 2010 sul canale a pagamento Hero e mai più riproposta, ingiustamente soppiantata secondo me da Flo Robinson, che è una serie bellissima, per fortuna la stanno riproponendo anche abbastanza spesso negli ultimi tempi, però è abbastanza incomprensibile, sarà una questione di diritti, abbastanza incomprensibile, il fatto che Lucy May sia completamente sparita dai nostri palinsesti. Lucy May fa sempre parte del grande progetto della Nippon Animation World Masterpiece Theater, un progetto importantissimo. Dopo il grande successo di Heidi, infatti, la Nippon Animation comincia a sfornare una dopo l'altra queste incredibili serie animate tratte dalla letteratura per ragazzi, libri famosissimi letti in tutto il mondo. Anche Lucy May è tratto quindi da un romanzo, Lucy of the Southern Rainbow di Phillips Piddington. Non credo che questo romanzo sia arrivato in Italia, non credo sia stato tradotto, infatti è uno di quelli che non sono riuscito a trovare e quindi non sono riuscito a leggerlo e quindi non posso effettivamente parlarvi anche delle differenze tra anime e romanzo. Tenete presente che temporalmente parlando Lucy May arriva nel 1982, dal gennaio al dicembre 1982, viene trasmesso per la prima volta in Giappone ed era stato preceduto da Flo Robinson, dall'isola della piccola Flo, che era andato in onda nell'anno precedente, nel 1981. Quando voi vedete serie che hanno 52 episodi come nel caso di Flo o 50 episodi come nel caso di Lucy May, significa che queste serie andavano a coprire tutto l'arco temporale perché in Giappone veniva trasmesso un episodio alla settimana. Quindi dopo il successo di Flo Robinson arriva subito nel gennaio del 1982 Lucy May e infatti un pochino anche i disegni richiamano quelli della serie precedente, il papà di Lucy May per esempio ricorda molto il papà di Flo Robinson e i presupposti da cui parte la serie di Lucy May sono un po' gli stessi da cui parte la serie di Flo Robinson, infatti abbiamo comunque una famiglia europea che decide di migrare in Australia alla ricerca di una nuova vita, anche se poi la storia è completamente diversa in primo luogo perché la famiglia di Lucy May, la famiglia Popple in Australia ci arriva. E la storia pertanto è completamente diversa perché lo spettatore, il bambino che all'epoca guardava per la prima volta Lucy May veniva messo proprio di fronte alla realtà nuda e cruda di queste famiglie che arrivavano in queste nuove terre, in questo nuovo mondo e dovevano affrontare tantissime difficoltà, tantissime avversità per potersi integrare, potersi insediare in questa terra completamente sconosciuta. Primo episodio secondo me tristissimo perché la serie si apre in Inghilterra con la nonna paterna di Lucy May e la zia che attendono con ansia questa lettera dall'Australia perché la famiglia Popple è partita per l'Australia lasciando appunto i parenti in Inghilterra e questa nonnina che attende la lettera di suo figlio e dei suoi cinque nipoti per sapere come è andato il viaggio dopo 95 giorni di navigazione per sapere se sono arrivati sani e salvi e questa nonnina ha proprio la consapevolezza che non rivedrà mai più suo figlio perché queste partenze purtroppo erano dei veri e propri addi. Si lasciavano gli anziani, i genitori nella madrepatria, in questo caso in Inghilterra e si partiva per l'Australia con la consapevolezza di non ritornare più. Siamo in particolare nel 1837. Il 1837 è l'anno di fondazione della città di Adelaide che è la città dove andranno a stare Lucy May e la sua famiglia. La città di Adelaide diventa una sorta di tra virgolette capitale di questa grande colonia del sud dell'Australia e pensate all'epoca della nostra storia questa città ha solo 300 abitanti quindi dall'Australia cominciano ad arrivare queste notizie anche il governo inglese fa molta propaganda rispetto a questa cosa raccontando ai contadini inglesi, agli agricoltori inglesi che vengono regalate le terre, che il viaggio si può fare a spese dello Stato e che quindi ci sono queste grandissime terre da coltivare e c'è possibilità di realizzare i propri sogni. Ed è proprio per questo che Arthur Popple il papà di Lucy May prende la decisione di imbarcarsi per l'Australia con sua moglie e con i suoi cinque figli, poi adesso vediamo chi sono questi cinque figli, proprio per creare una grande fattoria per fare il suo lavoro, il lavoro di agricoltore. Popple ha cinque figli, Clara la maggiore che ha 16 anni, poi c'è Ben 15 anni, poi ci sono Kate che ne ha 11 e Lucy May 8 quindi sono quasi coetanei, infatti tra queste due sorelline c'è sempre un rapporto di grande complicità e di amicizia e poi c'è Tob il più piccolo che ha due anni che non parla ancora. Il viaggio come dicevo è pagato dal governo e a bordo della nave che li porta in Australia la famiglia Popple fa la conoscenza di un uomo molto ricco, antipaticissimo, il signor Pitwell, davvero odioso, è proprio la spina nel fianco di questa famiglia e lo sarà per tutta la serie l'antagonista diciamo che non fa altro che mettere i bastoni tra le ruote a questa famiglia e che fa continuamente pesare al papà di Lucy May il fatto che lui viaggi a spese del governo mentre lui sta andando in Australia per scelta, se l'è pagato lui il viaggio e quindi il padre di Lucy May deve rompere poco le scatole, lui deve avere, il signor Pitwell deve avere sempre la precedenza su qualunque cosa, deve sbarcare per primo, tanti altri atteggiamenti di grande maleducazione che questa persona avrà nei confronti di questa famiglia. Ora il papà di Lucy May non è una persona incosciente, lui va in Australia abbastanza organizzato, cioè pensate che loro si imbarcano, riescono a imbarcare sulla nave anche una casa prefabbricata perché giustamente il papà di Lucy May ha detto io arrivo, mi danno la terra, ho già la casa, quindi pago meno, sicuramente una quota da versare ci sarà, però almeno pago solo la terra e costruisco lì la casa, me la porto già dall'Inghilterra e la costruisco lì. Pensando Arthur Poppel di trovare una buona organizzazione o comunque un'organizzazione come quella che il governo inglese stava propagandando in quel momento. Arrivano dunque in Australia, ovviamente devono abituarsi al clima perché partono in inverno, arrivano in Australia che è già estate, quindi soprattutto Clara soffre molto il caldo. Arrivano, sbarcano e sulla spiaggia lì dove c'è il caldo, piantano la tenda e insomma devono un attimino abituarsi. La casa prefabbricata nel frattempo resta a bordo della nave, già qui la prima difficoltà perché innanzitutto Poppel è arrivato lì e crede che la terra gli venga data subito perché altrimenti dove la costruisce questa casa. Quindi siccome le cose procedono molto a rilento, a un certo punto Poppel va presso uno degli uffici governativi e a chiedere ma questa terra, insomma, a quando la redistribuzione delle terre? Quando è che pensate più o meno di darci, di distribuire le terre agli agricoltori? Ah ma la questione stiamo procedendo a rilento, ci sono tantissime richieste, non possiamo soddisfarle tutte o comunque prima di dare una terra dobbiamo fare numerosi controlli, insomma Poppel si imbatte in quella che è una piaga già nel 1837, la burocrazia. Apro e chiudo parentesi, se leggete la piccola Dorrit di Dickens, soprattutto il capitolo dedicato all'ufficio delle circonlocuzioni, capirete che cos'era la burocrazia in quel periodo. Insomma, per farla breve, ad Arthur Poppel viene detto che ci potrebbero volere uno o due anni per l'assegnazione definitiva della terra. Disastro, disastro. Poppel comincia, insomma, non dico a disperarsi, però a capire che insomma la realizzazione di questo sogno comporterà molti più sacrifici e molte più difficoltà di quante non ne aveva preventivate. Vorrebbe poi Poppel portare questa casa sulla terraferma. Nel frattempo che cosa fa? Accetta un piccolo appezzamento di terreno alla periferia di Adelaide che è uno dei pochi disponibili in quel momento, lo accetta perché non può mica rimanere sulla spiaggia con cinque figli in eterno fin quando non ci sarà la distribuzione definitiva delle terre. Vorrebbe Poppel portare la casa sulla terraferma, ma deve trovare un carro. Altra impresa ardua, non c'è un carro in tutta Adelaide, sono tutti prenotati e tra l'altro l'unico carro che c'è lo prenota il signor Pittiwell che, come vi dicevo, por di far dei dispetti ad Arthur Poppel, sgancia dei gran soldi proprio per portare via a Poppel la possibilità di realizzare il suo sogno. Pertanto a un certo punto Poppel è costretto a vendere la sua casa prefabbricata a Pittiwell. Tra l'altro Poppel qui non è molto lungimirante perché insomma poteva contrattare un po' di più sulla casa, invece gliela dà a un costo non dico irrisorio ma quasi e questa cosa un pochino clara, la maggiore poi gliela rinfaccerà questa cosa e sono costretti quindi insieme a questo appezzamento di terreno a prendere anche questa casetta che è minuscola. Loro devono vivere in questa casetta cinque persone, cinque figli più due genitori, sette persone in questa casetta veramente minuscola. Nel frattempo hanno conosciuto anche il dottor Dayton che è un medico, bravo medico ma sempre ubriaco, con una passione per l'alcol. Anche qui apro una parentesi perché questo cliché dei medici ubriachi in questi anime io non l'ho capito. Cioè in Candy Candy vediamo il dottor Martin ubriaco, in Lovely Sarah vediamo il dottore che va a curare, va a fare visita a Sarah che sta quasi per morire ubriaco. Perché questo cliché dei medici ubriachi? Devo fare una ricerca. In ogni caso conoscono anche il dottor Dayton che va con loro, si stabilisce in una tenda davanti alla casetta dei Poppel e nel frattempo Lucy May con la sorella Kate che sono due bambine sempre piene di entusiasmo, Lucy May è un po' come Flo, è sempre alla ricerca di nuove avventure, questo nuovo mondo le sembra bellissimo, magico, fatato, questi animali, lei ama molto gli animali, la natura, e trova un'occasione di felicità, di gioia in qualunque esperienza. E anche grazie a Lucy May che casualmente trova una capretta che poi porta a casa, i genitori, la famiglia Poppel avrà almeno del latte, del latte fresco tutti i giorni, quindi si rende anche utile Lucy May. E poi Lucy May riesce anche ad allevare, trova un piccolo cucciolo di dingo, appartiene alla famiglia dei cani, ma è più selvatico, quasi vicino a un lupo, e Lucy May riesce ad allevarlo proprio come un cane domestico, alla fine diventa un cane questo dingo. E anche se io non sono poi particolarmente d'accordo su questa edulcorazione, questo addolcimento delle figure degli animali selvatici in questi anime, perché il dingo è tutta un'altra cosa. Se voi avete visto il film Un grido nella notte, tra l'altro ispirato a una storia vera, capirete di che cosa è capace un dingo. Va bene, fatto sta che questo dingo è un cuccioletto e cresce insieme a Lucy May, viene in effetti addomesticato e anzi più volte salverà anche l'agnellino di Lucy May dalle aggressioni del cane del signor Pittiwell, perché dovete sapere che Arthur Poppel con la sua famiglia va a stare in questo appezzamento di terreno, in questa casetta piccola. E casualità vuole che il signor Pittiwell vada a vivere a pochi metri e costruisce lì la casa prefabbricata che Poppel si era portato dall'Inghilterra, quindi questa famiglia vede la loro casa che nasce lì, che non è più la loro e capite poi la sofferenza anche di questa famiglia. Comunque per fortuna è una famiglia che si è sempre rimboccata alle maniche, grandi lavoratori, cominciano anche a costruire una piccola casa di mattoni, che poi diventerà una sorta di ambulatorio dove va a lavorare il signor Dayton, dove il signor Dayton accoglie i pazienti della zona, anche perché lì i medici scarseggiano sistematicamente. E il 15enne Ben, il secondo figlio dei Poppel, si appassiona alla medicina, lui vorrebbe diventare medico e poi anche qui vedremo l'evoluzione di questa storia. Nel frattempo come tira avanti la famiglia Poppel, visto che la fattoria, che l'appezzamento di terreno non è stato ancora dato al signor Poppel, che è un agricoltore, ha sempre fatto quello nella vita, ci sono strade da costruire, c'è tanto lavoro nelle cave e il signor Poppel finisce proprio per fare il muratore e per adeguarsi a questa vita come poi tanti altri coloni. Finalmente il signor Poppel individua un podere da acquistare, dove lui vorrebbe appunto creare questa fattoria, sembra quindi che le cose si stiano mettendo per il verso giusto. Intanto arriva anche John, il fidanzato di Clara, che è un ragazzo che lei aveva conosciuto a bordo della nave, che fa il marinaio, ma che ha deciso appunto di stabilirsi anche lui in Australia. Purtroppo il destino si mette ancora una volta in mezzo. Accade infatti che il cane del signor Pitywell, che va sempre a stuzzicare l'agnellino di Lucy May, in una di queste aggressioni sta proprio quasi per ucciderlo questo agnellino. Il dingo di Lucy May, chiamato Piccolo, per difendere l'agnellino attacca il cane del signor Pitywell. Una scena veramente questa realistica, di grande impressione. Si vede proprio la lotta tra questi due animali, il dingo che lo attacca al collo e questo cane riesce a rialzarsi, riesce a raggiungere il suo padrone, il signor Pitywell, e muore poco dopo. Anche se il cane del signor Pitywell, anche se è un cane che ovviamente non è stato addestrato a dovere, la scena fa veramente grande impressione e fa veramente una gran tristezza comunque vedere questo cane morire. Infatti il signor Pitywell, incavolatissimo, va dalla famiglia Poppel imbracciando il fucile perché vuole abbattere il dingo. Comunque in qualche modo riescono ad evitare che Piccolo venga ucciso, però Pitywell si vendica perché acquista il podere che Poppel aveva individuato, lo acquista a un prezzo maggiore che ovviamente Poppel non può rilanciare e sfuma il sogno di Poppel di creare la fattoria. Questa cosa cambia? Le sorti della famiglia. Intanto Clara va a lavorare in un panificio, Lucy, May e Kate cominciano ad andare a scuola, Arthur continua a lavorare nella cava e Ben deve rinunciare purtroppo al suo sogno di diventare medico, quindi storia molto triste perché ai piccoli spettatori dell'epoca viene fatto prendere atto che purtroppo non tutti i sogni si realizzano anche le persone di buona volontà come Ben che vorrebbero studiare, non possono studiare quindi non è una cosa scontata il poter studiare e quindi Ben deve rinunciare al suo sogno di diventare medico e va a lavorare presso l'ufficio delle dogane. Succede che avviene però un terribile incidente nella cava dove lavora Arthur, Arthur per fortuna, Arthur Poppel si salva se la cava con una frattura alla gamba, molte persone muoiono e lui cade in uno stato di depressione e cade vittima dell'alcol. Ora mostrare comunque anche questa cosa qui, mostrare a dei bambini un padre che cade vittima dell'alcol, che si arrende quasi di fronte alle difficoltà della vita, per l'epoca a mio avviso è stato qualcosa di abbastanza importante, abbastanza forte anche perché pensate che i bambini, questi erano anime per bambini, i bambini venivano dall'esperienza di Flo Robinson, questo papà di Robinson, quasi un supereroe che sa fare tutto, che non si arrende davanti a nulla, nessuna difficoltà, che lotta continuamente per mantenere unita la famiglia, ci ritroviamo con un'esperienza di Arthur Poppel che è molto più umana, un'esperienza molto più reale, perché anche i genitori sono esseri umani, non sono necessariamente supereroi e possono anche loro andare incontro, soccombere dinanzi ai problemi della vita, come accade per Arthur Poppel che di fatto diventa un alcolizzato e in questo momento le redini della famiglia le prende la mamma, Annie, una donna molto forte, molto tenace e pian piano Arthur con il sostegno, la vicinanza di tutta la sua famiglia riesce un pochino ad uscire dalla dipendenza dall'alcol e riprende, dopo esser guarito dalla frattura alla gamba, torna a lavorare. Purtroppo i guai non sono ancora finiti, ci sono tante difficoltà economiche che la famiglia Poppel deve affrontare, a un certo punto Arthur Poppel deve vendere anche la capretta di Lucy May, anche questa scena tristissima, qualcosa veramente ti si dilania il cuore con queste scene e Lucy May sconvolta da questa notizia comincia a vagare da sola per la città di Adelaide, si ritrova sul ponte di Adelaide a un certo punto, un cavallo imbizzarrito crea scompiglio, la ragazzina, questo cavallo sta quasi per aggredire Lucy May, la ragazzina cade, sbatte la testa, si ferisce a un braccio, per fortuna di lì sta passando, un ricco signore del posto, Frank Princeton, che vede Lucy May, la soccorre, la bambina la porta a casa sua, quando Lucy May si risveglia ha perso completamente la memoria. La moglie di Frank Princeton accoglie Lucy May come una figlia, anche perché questa bambina le ricorda la figlioletta che era morta poco prima, quindi si affeziona a questa bambina, decidono di tenerla con loro. Tanto grande disperazione nella famiglia Poppel perché Lucy May non si trova più, dove è finita Lucy May partono le ricerche di questa bambina che sarà ritrovata proprio da piccolo, dal dingo che casualmente la riconoscerà. Intanto anche Lucy May recupera la memoria, un giorno quando attraversa il ponte di Adelaide recupera improvvisamente la memoria, si ricorda chi è. Pertanto comincia una nuova fase della storia che poi si sviluppa e si conclude negli ultimi episodi. Frank Princeton che si è affezionato alla bambina vuole aiutare anche la sua famiglia, quindi offre un lavoro ad Arthur Poppel e gli offre anche di andare a stare nella sua fattoria, di insomma prendersi cura di una sua fattoria. Quindi tutta la famiglia si trasferisce finalmente in una casa più grande, anche se il sogno di Poppel è quello di essere proprietario di una fattoria non ha molto a genio il fatto di lavorare per qualcun altro ma comunque si devono adattare al che a un certo punto subentra una specie di ricatto perché la moglie di Frank Princeton continua a insistere perché vuole adottare Lucy May e quasi fanno capire che insomma se vuoi che io ti venda la fattoria ci devi dare Lucy May. Diciamo non è proprio così esplicita la cosa ma quasi glielo fanno capire. A quel punto Arthur Poppel con grande decisione dice che non ha nessuna intenzione di cedere o di accettare questa offerta e tant'è che se ne va rifiutando sia il lavoro nella fattoria sia un altro lavoro nella cava sempre offerto da Princeton. Nel frattempo Clara si sposa finalmente, almeno lei diventa autonoma, esce da questa situazione un po' sempre problematica, si sposa con John mentre Arthur nuovamente ricade nel vizio dell'alcol. giunge l'epilogo perché Lucy May vedendo quanto la sua famiglia sta soffrendo si reca di nascosto dai suoi genitori presso i Princeton chiedendo di essere adottata a patto che il signor Princeton venda la fattoria ai genitori di Lucy May e a quel punto Princeton commosso dal gesto di Lucy May si decide a vendere senza alcun tipo di condizione a vendere ai Poppel questa fattoria e dopo quattro anni e mezzo dal loro arrivo in Australia finalmente possono guardare al futuro con speranza possono incamminarsi verso l'arcobaleno, anche Clara e John poi si trasferiranno in questa fattoria quindi saranno tutti riuniti, vivranno di nuovo tutti insieme e potranno così incamminarsi verso un arcobaleno di speranza questo arcobaleno che ovviamente simboleggia la serenità, un futuro più roseo, anche un minimo di serenità economica che poi arriverà per questo. Il romanzo poi si chiama Lucy of the Southern Rainbow, Lucy dell'arcobaleno del Sud proprio perché alla fine insomma sembra che si incamminino verso questo futuro certamente più roseo dopo le tante difficoltà che questa famiglia ha dovuto superare Bene, questa è la bellissima storia di Lucy May, ripeto, è un peccato che non venga riproposto che storia bellissima, probabilmente o c'entrano i diritti, non so, anche se poi vedo che comunque queste serie del World Masterpiece Theater vengono comunque riproposte ce ne sono tante che vengono riproposte che Mediaset sta comunque recuperando quindi potrebbero anche recuperare questa qui che nulla ha da invidiare a Flo Robinson e alle altre serie del progetto anche perché poi affronta anche dei temi importanti, l'integrazione di una nuova famiglia in questo nuovo mondo, in questa nuova società, tutte le difficoltà che questa famiglia deve superare la positività poi sempre della protagonista di Lucy May e insomma un mix veramente bello per un anime che andrebbe certamente rivalutato e riproposto anche ai bambini di oggi e non solo a quelli di ieri di tanto tempo fa. Bene, io per oggi mi fermo qui, aspetto come sempre i vostri commenti e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!